Siamo ancora una volta a discutere su Europa e sulla nostra possibilità o la possibilità di diversi paesi di rimanere all'interno della medesima. La discussione è molto complessa, non è il caso di farla in questo momento. Dico però che noi come Italia stiamo rischiando per quest'anno di perdere 81 miliardi di euro che l'Europa ci deve e che noi abbiamo anche ampiamente pagato come facciamo regolarmente ogni anno per rimanere nel club. Questi 81 miliardi pesano su di noi perché se li perdiamo è un dramma, ma continueremo a perderle perché i fondi comunitari generalmente l'Italia ne riscuote pochissimi. Quindi questo per negligenza delle regioni, per negligenza della burocrazia, la burocrazia italiana sta stratangolando il paese. Non riusciamo a rientrare nei termini giusti per poter riscuotere quei soldi che ci spettano perché abbiamo pagato. E qui questo ci fa ripensare nuovamente all'Europa, ci fa ripensare nuovamente alla nostra possibilità o alla possibilità di altri paesi come il nostro che sono ampiamente sviluppati, ma che si stanno svendendo all'estero, come stiamo facendo noi, non so se l'avete notato, ma tutte le grandi imprese italiane sono state svendute, sono state o chiuse o svendute o portate fuori dai nostri confini. A cominciare dalla Fiat per finire con i forni metallurgici chiusi a Taranto con una forma di negligenza anche lì profonda perché si dovevano non chiudere come si sono chiusi, ma cominciare pian piano una ristrutturazione dei medesimi. Abbiamo chiuso la nostra possibilità di essere tra i primi dell'acciaio in Europa e ora non siamo nemmeno più fagliuti. Neanche questo si è perso. Abbiamo veramente perduto la possibilità di rimanerci in questa Europa. Ridiscuteremo e rivedremo poi quante possibilità ci sono di restarci davvero.